Mi aggancio a Darwin, perché no? Quello che abbiamo appena letto, perché no? Se è valido ciò che sopravvive, ciò che resiste al cambiamento, nel mondo animale evidentemente si riferiva a Darwin, apparteniamo anche noi al mondo animale evidentemente, ciò che è arrivato fino a noi è valido. Ma fino a noi cosa è arrivato? Fino a noi è arrivato il bruttissimo rinoceronte, pachidermico, pesante, però è arrivato fino a noi, e la snella gazzella, l'agile gazzella, preda purtroppo poi dei felini, ma insomma agile, elegante, bella. Compito nostro non è dire che una è bella e l'altro è brutto, ma Darwin, che entrambi sono stati in grado di arrivare fino a noi e che entrambi oggi sopravvivono. Perché parto da qui, in una rapidissima sintesi? Perché abbiamo sentito una carrellata di aziende, di casi aziendali, dai 2 billion ai 20 milioni dell'Ambrosoli, di cui ho parlato io nel mio intervento. una carrellata, non andate a cercare chi è il rinoceronte subito e chi è la gazzella, mi raccomando, ma una carrellata, avremmo sentito parlare di almeno una quindicina di casi più o meno approfonditi, e dentro c'è di tutto, per cui è impossibile per me dire sintesi. Questo sembrerebbe negativo per il convegno? No, è positivo. Come è positivo in natura, Darwin, che ci sia un rinoceronte e ci sia una gazzella, ripeto che sono in grado non solo di essere arrivati fino a noi, ma di sopravvivere oggi. Ci potrà piacere più uno o più l'altro, ma essendo tutte e due in grado di sopravvivere, il loro compito lo fanno. E allora aziende molto diverse fra di loro, per grandezza, internazionalizzazione, segmento produttivo, quelle che abbiamo sentito, noi non dobbiamo andare via con l'idea quella è buona, questa è cattiva, ma con l'idea abbiamo sentito 15 casi, ciascuno di noi vive in un caso, gazzella, rinoceronte e vatte la pesca, dai 15 che ho sentito porto via alcune cose. Cioè non stiamo facendo la stessa gara. Queste sono state delle olimpiadi, dove c'è il maratoneta, dove c'è il centometrista, dove c'è il gioco del singolo e il gioco di squadra. E in queste olimpiadi, di questa mattina, in cui abbiamo sentito parlare di tanti sport, di tante aziende, di tante razze animali, il successo non è determinato dall'andare a casa con l'idea che tutti dobbiamo fare come un caso. Ma tutti abbiamo, ci siamo confrontati con tanti casi e ciascuno avrà imparato qualcosa. È sinonimo superficialmente di confusione, ma in realtà il futuro dell'impresa economica, in Italia in particolare, è questo. Faccio due esempi. Io ho detto nel mio intervento che non bisogna standardizzare, ma mi è chiaro che Casalasco debba standardizzare, come è stato scritto nel, perché ha a che fare col pomodoro, perché ci ha spiegato, eccetera. Io ho detto nel mio intervento che non bisogna, restando in Italia in particolare, che sarebbe meglio specializzarsi più che diversificare, ma mi è chiaro che avendo degli azionisti messicani che storicamente si occupano di tutto, e Alfieri questo dovrà resisterci, perché per loro, ma messicani, io parlavo agli italiani, per loro diversificare è il massimo. Intendo dire, io ho cercato, tutti noi abbiamo cercato di dare delle indicazioni che nascono da delle esperienze concrete. Due cose ancora. Vi par mai possibile, qui coinvolgo uno che è presente, penso che me lo permetta, e tanto non glielo ho chiesto, vi par mai possibile, rinoceronte, gazzella, che un'azienda da 100 milioni di fatturato, non abbia un dirigente, è possibile, sembrava di no, altro che rinoceronte, no? Altro che, è possibile, si chiama Casalini, è un SRL, il gruppo fattura 100 milioni, c'è qui uno dei membri della famiglia, mi raccontava nell'intervallo, si sono presi la briga di comprarsi il marchio Lazzaroni, lo stanno rilanciando in termini di pubblicità fra qualche mese, però 100 milioni senza un dirigente sembrerebbe il rinoceronte, ma se il rinoceronte vive non siamo noi a doverlo ammazzare. Poi, magari diciamo che la gazzella ci piace di più, ovviamente, ma riconosciamo questa diversità che nel mondo economico è fondamentale. cani e gatti, resto ancora lì e vado rapidamente a chiudere, voi non potete pensare che il vostro cane gli insegnate, se siete bravi, gli insegnate a salire sulla pianta, perché se ce l'avete in mente toglietevelo il più rapidamente possibile. È un cane, non sulla pianta, non ci andrà mai. Il vostro gatto farlo correre un quarto d'ora al massimo della sua velocità, neanche dopo un allenamento col miglior trainer riuscirete mai a farlo. È un gatto, felino, ha uno scatto limitato, più di tanto. Allora, da una mattina come questa, uno deve capire ma io sono cane, sono gatto, mi sono confrontato con rinoceronti, gazzelle, zebbre, io che sono gatto e quindi strategia, io che voglio fare questa cosa, cosa, e che sono gatto, poi devo ovviamente mettermi in grado da gatto di fare cose che sia in grado di realizzare ma non mettetevi in testa di diventare cane e viceversa perché non ce la farete mai. Quindi il segreto è coerenza tra strategia e organizzazione anche con l'aiuto indubbiamente di chi dall'esterno dell'azienda, in questo caso Sinfo1 che ci ospita, può darvi una mano ma il segreto è coerenza tra strategia e organizzazione. E questo credo che sia fondamentale e ciascuno nelle proprie aziende o nel proprio lavoro manageriale deve scoprire perché se voi vi mettete in mente che da cani potete diventare gatti auguri e un buono psicanalista. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti